secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non sono sicuro che mi chiamo sono sicuro che muo mi chiamo sono sicuro c'è allora visto che è successo è in sardegna che è successo ragazzi ma si è allagato tutto ma che sta succedendo giù porca la puttana madonna mi dispiace ha incendio ah o cazzo non sono mutato porca Chiedo scusa No Mi fate ridere BASTA Non mi fate ridere Basta Oddio che schifo Oddio che schifo Aspettate Porco dio Ma che è Ma che è successo Alex accendi tutto Alex accendi tutto Sì Basta A cibo, che carico? Grazie per il bit, bello. Scappa, scappa. Ci sono usate addirittura nei film, tra l'altro, se vogliamo proprio parlare di quel film, Ouija è veramente, secondo me, ridicolo. Cioè, fa veramente ridere quel film, ma questa è comunque un'altra storia. Sì, vabbè, non giudicare i film, eh. Eh, eh, eh. La tavola Ouija è in pratica un aggeggio, un mezzo, un attrezzo, un ausilio per poter comunicare con un mondo a noi sconosciuto. Il velo tra i due mondi è praticamente nullo. Ma che cazzo stai a dire? Ma che minchia stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Conosciuto. Comunicare con gli spiriti, con i nostri defunti, con l'entità o con i cosiddetti fantasmi. Ma sarà veramente così? Si può davvero usare? Chi può farlo? Vediamo, innanzitutto, che cos'è la tavola? È un pannello, solitamente, di legno. È una tavola in cui io mangio sopra, faccio un tagliere dove taglio le cipolle e le patamega. Ma li hanno fatti anche plastificati, li hanno fatti in plexiglaste, li hanno fatti in tutti. Eh... Aspetta, vedo io, non vi muovete, aspetta. L'ho visto, l'ho visto, voglio, l'ho visto. L'ho visto io. Fai io, fate la clip, fate la clip, l'ho visto. L'ho visto, ragazzi? Andiamo, vado a cà. Già fa poca odio. Andiamo. Allora, madonna, puttana zoccola. Basta! Basta! C***o! C***o! ciò cazzo madonna mia ciccio porco dio madonna mia porco dio ciccio mannaggia la puttana maestro no no ragazzi poverino lasciatelo stare gennaro facitemi la grippe basta no ológica non maestro vediamo 100 milles 365 gehen Grazie MISROSIO 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 ECCOLO E' so vini 3 cm ma quanto vuoi? Chi l'ho non so guazzo? Che cosa ti arriva? Fini in canna Che pesci ma che ti hai da fare? E' non è da pesci Ma quanto nessuno vi pesci Ho tenso i piccirini Ho tenso i piccirini Ho pensato anche i piccirini e basta Questa è una scusa per adescare Ma quale scusa? Allora ho tenso rossi Ti faccio il tuo cuore Vosso Che cosa fa faccio i piccirini? ma cazzo farà sono andato così non ci fatti panino a favore a favore oddio a favore Disastro Vati nonno vati Vaffanculo 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 Oddio Maleducati Oddio 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 Adesso non vedo niente C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno ScALLIN FOREVER GASHz GASZ 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 Oh!